Il perdono a Brad Pitt è solo per amore dei figli? Il perdono a Brad Pitt è solo per amore dei figli La dichiarazione della star di Hollywood ha scatenato un grande dibattito Alcuni pensano che la sua decisione dipenda dal forte sentimento che ancora l'allega all'ex marito, mentre altri sostengono che sia dovuta esclusivamente ad un forte senso di responsabilità e amore verso i loro sei figli Angelina Jolie, un gesto da moglie o da mamma? La storia d'amore tra Angelina Jolie e Brad Pitt, durata più di dieci anni, ha fatto sognare il pubblico di tutto il mondo, facendo credere che anche l'irrealizzabile potesse diventare realtà Bellissimi e talentuosi, i due attori hanno creato una famiglia solida e felice, ma purtroppo i problemi non hanno tardato a presentarsi anche nel loro splendido nido Ad un anno dall'annuncio della separazione, la Jolie ha ripreso in mano la sua vita con coraggio e ha deciso di lasciare da parte l'odio, dichiarandosi pronta a perdonare Brad nel caso in cui lui si fosse reso conto dei suoi errori Molti fan si sono immediatamente lasciati cogliere dall'entusiasmo, speranzosi del fatto che questo possa essere il segnale della riconciliazione tanto agognata, ma sono in molti a pensare che le cose andranno in modo decisamente diverso L'attrice infatti avrebbe teso la mano verso il suo ex principalmente per un forte senso di responsabilità e amore verso i loro sei figli, che hanno molto sofferto a seguito alla loro decisione di allontanarsi Un gesto da donna ancora innamorata o da mamma protettiva? Per ora nessuno sa come si evolverà la situazione, quello che è certo è che l'attore sia molto impegnato nel suo nuovo ruolo di imprenditore in Croazia, e che non abbia ancora fatto avere nessuna risposta alla ex moglie Angelina Jolie dice addio all'odio, la sua rinascita all'insegna della famiglia Durante quest'ultimo anno, la Jolie ha dovuto affrontare il forte distacco dal marito e un senso di perdita che l'ha accompagnata per mesi, finalmente però la star di Hollywood ha trovato la forza e la determinazione per rialzarsi e mostrarsi più bella e raggiante che mai Oltre ad aver ritrovato la sua energia grazie al lavoro, che è un'autentica vocazione, l'attrice si è affidata completamente all'amore per i suoi figli, unica fonte di ispirazione della sua intera esistenza Il rapporto con i suoi sei ragazzi è improntato alla condivisione alla stima più completa, tanto che i suoi figli non l'hanno mai lasciata da sola, dimostrando un amore materno davvero fuori dal comune Oggi Angelina Jolie sfoggia con orgoglio le sue nuove ferite, ma si dice pronta a cogliere questa nuova rinascita e tutte le opportunità che sarà a offrirle, forte del suo ruolo di mamma Sono tantissimi i fan e i colleghi pronti a sostenerla, ricordando quanto l'attrice sia un punto di riferimento irrinunciabile del cinema internazionale Ora non resta che attendere come si evolverà il rapporto con Brad Pitt, che ci sia una riconciliazione alle porte? Per molti è improbabile, ma i due potrebbero scegliere di appianare i vecchi rancori e costruire un nuovo rapporto per far stare al meglio i loro adorati ragazzi Ciao!